Un'altra storia Un'altra storia In cui sei? Un'altra storia Con cui sei? In cui sei? In cui sei? Come sei? Qui in cui sei? Ragazzi, dove venite? Kairai! Sì, da dove venite? Da Parigi Sei? Tedesco C'è di tutto alla convention 2 Sono italiana e vengo da Parigi Where are you from? Ah, from Russia Ok, dai, così Vai Where are you from? Germany Where are you from? Germany Germany, no, where are you from? Taiwan 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 Yeah Where are you from? Modena Grazie Ho portato con un'interessista dove vuoi? Oggi vi porto nel mondo del potere Siamo allo Sherlock Holmes E questa è la Animal Convention Organizzata da Jim Lopez Seguitevi Bene, siamo in compagnia di Jim Lopez L'organizzatore Jim è pluricampione del mondo Di step, di aerobica Insomma, un vero professionista Del settore del fitness Ormai da tanti anni vive qua in Italia E sono nove anni, giusto? Nove anni, nove anni di convention Di edizioni Stressanti, però divertentissime La sera farò una lezione di step coreografica In esempio, come potete vedere, ha un look tutto suo e per questo anche ci piace Poi magari dopo si metterà anche qualche orecchietta d'animale, non lo sappiamo perché essendo un Animal Convention non può succedere di tutto, vero? Sono in compagnia di Tony Ruocco, un altro giovane e bellissimo presenter italiano, per fortuna che ci sono insomma questi ragazzi che portano alto il nome della bandiera italiana nel mondo Tony invece che farà, anzi io so cosa farà perché tu apri la convention Io quest'anno apro, è la prima volta All'eore 18, lezione di step coreografico Facile, accessibile, divertente E molto emozionato però Ragazzi da dove venite? Da Napoli Ragazzi Grazie a tutti.